Un buongiorno a tutti, bentornati, episodio numero 14 del corso di Node, questo oggi parliamo degli stream. Allora, cosa sono e come funzionano? Conoscete sicuramente le live stream, ok? E si basa esattamente sul concetto di cui andremo a parlare oggi. Lo stream è quel flusso costante di dati. Le live stream si chiamano tali perché è un flusso costante live in tempo reale di dati. Quindi non è un video che noi registriamo e poi mandiamo e voi vedete quando volete, ma è appunto un flusso costante di dati che arriva finché la persona è in live. Quindi finché la persona è in live e noi la stiamo guardando, ci arriva secondo per secondo ciò che sta succedendo, ok? Quindi gli stream altro non sono che appunto dei flussi dati e questa cosa la possiamo utilizzare anche per leggere file, che non siano video e altre cose, ok? Quindi veramente pensate agli stream come un flusso di dati costante diviso in quelli che si chiamano chunk, altro non sono che dei pezzi, quindi divisi a pezzi. Quindi immaginate un file, come adesso vedremo, molto lungo da leggere, ci arriverà a chunk, ovvero ci arriverà suddiviso in pezzi. Quindi leggeremo prima una parte, poi un'altra, poi un'altra, che è molto più comodo rispetto a scaricare tutto, aspettare di aver scaricato tutto, invece così possiamo già cominciare a leggere, poi leggiamo il resto, poi leggiamo il resto. Tanto è molto probabile che il tempo che leggiamo il primo chunk ci sarà già arrivato il secondo e poi il terzo. Quindi ecco come funzionano gli stream e soprattutto cosa sono. Andiamo per prima cosa a creare un file pesante, così possiamo fare l'esempio. Quindi andiamo a fare semplicemente un const e andiamo a mettere, vi ricordate, write file sync. E andiamo a fare il require di fs, che è file system. Andiamo a fare un bel for e andiamo a mettere let uguale, i uguale 0, virgola, i minore di 10.000, va più che bene, due punti, i più più. Apriamo e andiamo a fare write file sync, eccolo qua e andiamo a mettere dentro, insomma a questo livello e creiamo file grande punto txt, facciamo così e dentro ci andiamo a mettere molto semplicemente una bella frase e scriviamo ciao riga numero. E mettiamo qua questo e poi ci andiamo a buttare dentro i e poi andiamo a capo con n, così mi raccomando, visto che dobbiamo appendere, dobbiamo fare il flag, ve lo ricordate, con tra virgolette a che sta per append e noi siamo maledettamente a posto. Ok, salviamo, perfetto, vedete che è arrivato il file grande, io qua avevo già nodmon acceso, ok, di conseguenza è già arrivato il nostro file grande. Ciao riga numero 0, 1, 2, bla 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 e io posso andare veramente, vedete, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000 fino alla riga 10.000. Molto bene, quindi abbiamo il nostro file grande, adesso quello che andiamo a fare è provare a leggerlo senza l'utilizzo degli stream. Quindi molto semplicemente dobbiamo portare read file sync, eccolo qua, togliamo questa cosa qui e andiamo a fare const file grande e andiamo a mettere read file sync, ops, non è read, a volte fa quello che vuole, read file sync e noi vogliamo leggere quello che è file grande punto txt e chiaramente mettiamo utf8, ok? Se io faccio così, salvo, lo sta leggendo, prima di mandare a schermo però, colpa mia, togliamo utf8 che così ci arriva il buffer, se no non si vede bene quello che voglio fare, quindi facciamo così, salviamo e vedete che ci manda il buffer con i byte, li vedete? Quindi questa è la grandezza del file, se noi apriamo qui e facciamo proprietà, vedete come il file è di 213k, ok? Dimensioni su disco 216, quindi vedete? 216k più o meno, qua ce lo mostra in modo diverso ma le conversioni sono corrette, ok? Quindi 216k e qua ci arriva tutto in una botta sola, vedete? Perfetto, ora usiamo create stream e vi faccio vedere la differenza, se io vado qua, facciamo una bella virgola, facciamo spazio e facciamo create read stream, eccolo qua, e andiamo a fare, commentiamo qui, e andiamo a fare const stream uguale create read stream e andiamo a leggere che file, sempre questo file, andiamo a leggere, molto bene, e adesso dobbiamo andare a fare on, abbiamo visto prima nell'episodio precedente gli eventi, ve lo ricordate? Quindi stream.onData, questo è già inserito nello stream, non possiamo scegliere noi il nome come abbiamo fatto prima, andiamo a prendere result che ci viene mandato, vi ricordate come parametro degli eventi che abbiamo visto, ecco perché ve l'ho fatto, console.log e noi abbiamo un bellissimo result, vediamo un po' cosa ci capita, ecco qua, vedete come abbiamo tre buffer diversi, quindi vedete come il file ci viene diviso in chunk, ecco qua, prima era un buffer unico, prima era un buffer unico, adesso abbiamo tre buffer differenti, ok? Molto semplice, quindi questo è un esempio, ok? Questo è semplicemente un esempio di come siamo andati a utilizzare create read stream, in questo caso per semplicemente leggere, ma possiamo fare la stessa cosa anche per scrivere, abbiamo anche la possibilità di scrivere e leggere, però queste sono cose che entrano più nel dettaglio, il mio scopo qui è solo farvi vedere che cosa sono gli stream, e quindi l'abbiamo visto, e sappiamo che utilizzano gli eventi, ok? On l'abbiamo visto, il tipo di evento che va a utilizzare, va a fare una callback e ci vengono passati i file in chunk a sé stanti, che è molto meglio rispetto a scaricare tutto subito, questo è un altro paio di maniche, non entro nel discorso, volevo solo farvi vedere, e con questo dovrebbe mancare, credo, un video di roba extra, ma abbiamo finito quelle che sono le peculiarità di node, quindi le basi che caratterizzano node, abbiamo parlato di event loop, abbiamo parlato di stream, abbiamo parlato di event emitters, andremo poi a vedere http nel dettaglio, perché qualcuno potrebbe non sapere come funzionano le richieste, eccetera, ma noi di base la parte teorica l'abbiamo finita, quindi vi ringrazio per essere rimasti con me, sotto in descrizione come al solito per supportare il canale, entrare nella community, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!